Buongiorno! E' bellissimo essere qui al secondo compleanno in veste di Assessore alle Politiche per l'Ambiente, il sesto compleanno di Repop, siete assolutamente una forza della natura, tutti e tutti i banchi vi riconoscono, apprezzano quello che fate, Piazza della Repubblica si è arricchita da quando tu Paolo sei qui a collaborare con loro, è un orgoglio per la città di tutto quello che fate perché fate una lotta allo spreco che è importante, che dà tantissimi risultati, quindi questo è il vostro sesto compleanno, io personalmente me ne auguro altri 100.